Una stanza decisiva per l'1-0. Il Toro in casa contro il Gubbio, sblocca il risultato con Bianchi su il tap-in vincente. Dopo un'azione insistita si sblocca Bianchi dopo tanti errori nel primo tempo. In apertura di ripresa il raddoppio porta la firma di Antenucci sull'assist di Guberti. Da quel punto in avanti la gara è tutta in discesa per il Torino. Prende la mira e col destro in diagonale Surraco fa 3-0. Primo gol per Juan Surraco in questa stagione. Il Gubbio sbanda in difesa, siamo a metà della ripresa. Non c'è spazio per Bianchi per il gol del 4-0. Doppietta personale sale a quota 8. Rolando Bianchi in questo campionato si sblocca praticamente all'esordio. Dopo pochi secondi con la maglia granata Pasquato suo. Il gol al secondo, pallone toccato. C'è spazio anche per la doppietta di Antenucci sul diagonale del 6-0.